Di Guy de Maupassant, Bellamy, voce di Lorenzo Pieri, seconda parte, capitolo secondo. I Durois erano rientrati a Parigi da due giorni e Georges aveva ripreso il suo solito lavoro in attesa di lasciare gli ecchi di cronaca per assumere definitivamente le mansioni di Forestier e dedicarsi esclusivamente alla politica. Quella sera stava tornando a casa nell'appartamento del suo predecessore, tutto allegro per la cena e con un vivo desiderio di riabbracciare presto sua moglie, della quale subiva fortemente il fascino fisico e l'impercepibile dominio. Passando davanti a una fioraia, in fondo a Rue Notre-Dame de Lorette, gli venne l'idea di prendere dei fiori per Madeleine e acquistò un grosso mazzo di rose appena dischiuse, un fascio di boccioli profumati. A ogni piano della sua nuova scala si guardava compiaciuto negli specchi che sempre gli ricordavano il suo primo ingresso in quella casa. Suonò avendo dimenticato la chiave e venne ad aprire lo stesso domestico di allora tenuto in servizio su consiglio della moglie. Georges domandò «La signora è rientrata?» «Sì, signore». Ma attraversando la sala da pranzo fu molto sorpreso di vedere la tavola apparecchiata per tre e poiché la tenda del salotto era aperta, vide Madeleine intenta disporre in un vaso sul caminetto un mazzo di rose del tutto simile al suo. Ne rimase contrariato, scontento, come se qualcuno lo avesse defraudato della sua idea, della sua premura e di tutto il piacere che aveva pensato di ricavarne. Entrando domandò «Ha invitato qualcuno?» Lei rispose senza voltarsi, continuando a sistemare i fiori «Sì e no, è il mio vecchio amico il conte de Vaudrecq, abituato a cenare qui tutti i lunedì e che oggi viene come sempre». Georges murmurò «Ah, benissimo». Se ne stava in piedi dietro di lei con il suo mazzo di rose in mano e una gran voglia di nasconderlo, di buttarlo via. Invece disse «Tieni, ti ho portato delle rose». Lei si voltò di scatto tutta sorridente ed esclamò «Ah, che pensiero gentile hai avuto» e gli tese le braccia e la bocca in uno slancio di piacere così vero che lui si sentì consolato. Lei prese i fiori, ne respirò il profumo e con la vivacità di una bambina felice li sistemò nel vaso rimasto vuoto accanto all'altro. Poi, contemplando l'effetto, mormorò «Come sono contenta, ora sì che è a posto il mio caminetto» e subito aggiunse con aria convinta «Sai, è delizioso de Vaudrecq, diverrete subito amici». Un suono di campanello annunciò il conte. Entrò tranquillo a suo agio come se fosse a casa sua, dopo aver baciato galantemente le dita della giovane signora, si volse verso il marito e gli tese cordialmente la mano, domandando «Come va, caro Diugua?». Non aveva più il suo solito atteggiamento sostenuto, altezzoso, ma un'aria affabile che lasciava capire quanto la situazione fosse cambiata. Il giornalista, sorpreso, cercò di mostrarsi gentile per rispondere alla sua cortesia. Cinque minuti dopo sembrava che si conoscessero e si adorassero da dieci anni. Allora Madeleine, con un viso raggiante, disse «Vi lascio soli, devo dare un'occhiata in cucina» e scappò via, seguita dallo sguardo dei due uomini. Quando tornò, li trovò che stavano parlando di teatro, a proposito di una nuova commedia, ed erano talmente d'accordo nei loro giudizi che nei loro occhi si era accesa a una sorta di rapida amicizia, alla scoperta di quell'assoluta comunanza di idee. La cena fu deliziosa, molto intima e cordiale. Il conte si trattenne fino a tardi, trovandosi così bene in quella casa, con quella nuova coppia così piacevole. Appena se ne fu andato, Madeleine disse al marito «Non è un uomo perfetto? Conoscendolo è straordinario davvero. È un vero amico, sicuro, devoto, fedele. Ah, senza di lui!» Non terminò il pensiero e Georges rispose «Sì, lo trovo molto piacevole. Credo che ci intenderemo benissimo». Ma lei riprese subito «Sai, stasera dobbiamo lavorare prima di andare a letto. Non ho avuto il tempo di parlartene prima di cena, perché Vaudrec è arrivato troppo presto. Nel pomeriggio mi hanno portato delle notizie importanti, notizie sul Marocco. Me le ha passate la Roche-Mathieu, il deputato, il futuro ministro. Dobbiamo fare un grande articolo, un articolo di forte impatto. Ho dati e cifre. Mettiamoci subito al lavoro. Su, prendi il lume». Lui lo prese e andarono entrambi nello studio. I soliti libri erano disposti in ordine nella libreria. Sul ripiano più alto, i tre vasi acquistati da Forestier alla vigilia della morte. Sotto il tavolo, lo scaldapiedi del morto aspettava i piedi di Durois, che appena seduto si impossessò della penna d'avorio, un po' mordicchiata sulla punta dai denti dell'altro. Madeleine si appoggiò al caminetto e, accesa una sigaretta, gli raccontò le notizie, poi espose le sue idee e lo schema dell'articolo che aveva in mente. Lui la ascoltava attento, scarabocchiando degli appunti, e quando lei ebbe finito sollevò alcune obiezioni, riprese il tema, lo ampliò e sviluppò a sua volta non più lo schema di un articolo, ma il piano di una vera e propria campagna contro l'attuale governo. Quell'attacco sarebbe stato soltanto l'inizio. La moglie aveva smesso di fumare, tanto era interessata, valutando i ragionamenti di Georges in tutti i loro aspetti. Di tanto in tanto, mormorava, sì, certo, ottimo, perfetto, una bomba. E quando anche lui ebbe finito di parlare, ora scriviamo, disse. Ma per Georges l'inizio era sempre difficile e faticava a trovare le parole. Allora Madeleine si chinò leggermente sulla sua spalla e cominciò a suggerirgli le frasi in un orecchio, a bassissima voce. Di tanto in tanto, esitava e gli chiedeva, è così che vuoi dire, vero? Lui rispondeva, proprio così. Aveva certe battute taglienti, strali velenosi, tipicamente femminili, per ferire il presidente del consiglio e alternava il sarcasmo sui tratti del suo volto all'ironia sulla sua politica in un modo così comico che suscitava il riso e nello stesso tempo colpiva per la precisione dell'analisi. Ogni tanto, Diorois aggiungeva qualche riga per rendere più profonda e penetrante la portata dell'attacco. Tra l'altro conosceva bene l'arte dei sottintesi perfidi, appresa nel rendere pungenti gli echi di cronaca. E quando un fatto, dato per certo da Madeleine, gli sembrava dubbio o compromettente, eccelleva nel lasciarlo intuire, imponendolo così con una forza che non avrebbe avuto se si fosse limitato ad affermarlo. Quando il loro articolo fu terminato, Georges lo rilesse ad alta voce, declamandolo. Lo giudicarono entrambi ottimo e si sorrisero felici e sorpresi come se si fossero rivelati l'uno all'altra per la prima volta. Si guardavano negli occhi, commossi di ammirazione e tenerezza, e si baciarono con slancio, con un ardore d'amore che dalle menti emozionò i corpi. Diorois riprese il lume. «E ora a nanna», disse con uno sguardo acceso. Lei rispose «Prima lei, mio signore, a illuminarmi il cammino». Lui le passò avanti e lei lo seguì in camera da letto, solleticandogli il collo con la punta delle dita tra il colletto e i capelli, per farlo andare più svelto, lui che non resisteva a quella carezza. L'articolo uscì con la firma di Georges Durois de Cantel, suscitò scalpore e fece impressione alla camera. Il vecchio Walter si congratulò con l'autore e gli affidò la redazione politica della Vie Française. Gli echi di cronaca tornarono a Bois-Renard. Da quel momento il giornale iniziò una campagna abile e violenta contro il governo in carica. Gli attacchi, sempre accorti e documentati, ora ironici, ora seri, a volte scherzosi, a volte virulenti, colpivano con una sicurezza e una continuità tali da provocare un generale stupore. Gli altri giornali non facevano che citare la Vie Française, ne riportavano interi brani e gli uomini di potere cominciarono a porsi il problema di imbavagliare legalmente quel nemico sconosciuto e accanito. Durois stava diventando famoso negli ambienti della politica. Dalle strette di mano sempre più forti e dall'ampiezza delle scappellate si rendeva conto che il suo prestigio stava crescendo. Sua moglie poi non finiva di stupirlo e di riempirlo di ammirazione per la raffinata intelligenza, l'abilità nel procurarsi informazioni e la quantità delle sue conoscenze. In qualsiasi momento, tornando a casa, trovava in salotto un senatore, un deputato, un magistrato, un generale che trattavano Madeleine come una vecchia amica con austera familiarità. Dove aveva conosciuto tutta quella gente? In società, diceva lei, ma com'era riuscita a conquistarne la fiducia e l'amicizia? Questo non lo capiva. Sarebbe una diplomatica coi fiocchi, pensava. Spesso Madeleine rientrava in ritardo all'ora dei pasti e prima ancora di togliersi la veletta, affannata, rossa in viso, eccitata, diceva «Oggi ne ho di cosine deliziose. Figurati che il ministro della giustizia ha appena nominato due magistrati che hanno fatto parte delle commissioni miste. Gli piantiamo un casino che se ne ricorderà per un pezzo». E giù una legnata al ministro, un'altra l'indomani, un'altra ancora il terzo giorno. Il deputato Laroche-Mathieu, che era a cena in rue Fontaine tutti i martedì, dopo il conte di Vaudrec che iniziava la settimana, stringeva vigorosamente la mano alla moglie e al marito con esagerate dimostrazioni di gioia e non smetteva di ripetere «Cristo, che campagna, se non ce la facciamo questa volta!» e in effetti sperava proprio di farcela, ad arraffare il ministero degli esteri, al quale puntava da tanto tempo. Era uno di quegli uomini politici dalle molte facce, senza convinzioni proprie, senza grandi mezzi, senza coraggio e senza una seria preparazione, avvocato di provincia, bell'uomo da città-capoluogo che si teneva in furbo equilibrio tra i partiti estremi, una sorta di gesuita repubblicano e di fungo liberale di dubbia natura, come ne spuntano a centinaia sull'etamaio popolare del suffragio universale. Il suo macchiavellismo di paese lo faceva passare per un tipo scaltro e abile tra i suoi colleghi, tra tutti i declassati e i falliti dal cui inovero si scelgono i deputati. Era abbastanza accurato, abbastanza corretto, abbastanza alla mano e abbastanza affabile per farcela. Riscuoteva un certo successo in società, in quella società mista, torbida e piuttosto grossolana, formata dagli alti funzionari, in voga al momento. In ogni ambiente dicevano di lui «La Roche diventerà ministro» e che La Roche sarebbe diventato ministro era lui stesso più convinto di chiunque altro. Era uno dei principali azionisti del giornale del vecchio Walter, suo collega e socio in molte speculazioni finanziarie. Dua lo sosteneva fiducioso e con vaghe speranze per il futuro. Del resto non faceva che proseguire l'opera iniziata da Forestier, al quale la Roche-Mathieu aveva promesso la croce quando fosse giunta l'ora del suo trionfo. La decorazione sarebbe finita sul petto del nuovo marito di Madeleine. Ecco tutto. Insomma, non era cambiato nulla. Ed era talmente chiaro che non era cambiato nulla, che i colleghi di Duroa si erano messi a prenderlo in giro con una burla che cominciava a infastidirlo. Lo chiamavano Forestier. Appena arrivava al giornale c'era sempre qualcuno pronto a gridare «Ehi, Forestier!». Lui fingeva di non sentire e andava a prendere la posta nella sua cassetta, ma la voce ripeteva più forte «Ehi, Forestier!» e si udivano delle risatine soffocate. Quando Duroa si avviava verso l'ufficio del direttore. Il tipo che l'aveva chiamato lo fermava. «Oh, scusami, è con te che volevo parlare. Che stupido. Ti confondo sempre con il povero Charles. È che i tuoi articoli somigliano maledettamente ai suoi. Si sbagliano tutti». Duroa non rispondeva, ma si rodeva. E una collera sorda gli cresceva dentro contro il morto. Lo stesso vecchio Walter, una volta che avevano suscitato stupore, certe evidenti somiglianze di stile e di ispirazione tra gli articoli del nuovo redattore politico e quelli del precedente, aveva dichiarato «Sì, c'è qualcosa di Forestier, ma un Forestier più sostanzioso, più nervoso, più virile». Un'altra volta, Duroa, aprendo casualmente l'armadio dei Bibouquet, aveva trovato quelli del suo predecessore con il manico avvolto da un crespo nero, mentre il suo, quello con cui si esercitava sotto la guida di Saint-Poton, era ornato di un nastro rosa. Erano tutti allineati sullo stesso ripiano, in ordine di grandezza, e su un cartellino simile a quelli dei musei, era scritto «Antica collezione Forestier enci», «Forestier du Roi», successore, brevetto SGDG, articoli indistruttibili e utilizzabili in qualsiasi circostanza, anche in viaggio». Richiuse l'armadio con calma e disse a voce abbastanza alta per essere sentito «Ci sono imbecilli e invidiosi dappertutto». Ma era ferito nell'orgoglio, ferito nella vanità, in quei sentimenti ombrosi di orgoglio e vanità dello scrittore che provocano una nervosa suscettibilità sempre in allarme, uguale nel reporter e nel poeta di genio. Quella parola, Forestier, era lancinante per le sue orecchie. Aveva paura di udirla, e quando la udiva si sentiva arrossire. Quel nome per lui era una derisione provocatoria, più che una derisione, era quasi un insulto che gli gridava in faccia «È tua moglie a fare il tuo lavoro, come faceva con quell'altro, senza di lei non esisteresti». Era del tutto d'accordo che Forestier non sarebbe esistito senza Madeleine, ma quanto a lui non scherziamo. Rientrato a casa, l'ossessione continuava. La casa intera gli ricordava il morto, ogni mobile, ogni ninnolo, qualsiasi cosa toccasse. Nei primi tempi non ci aveva fatto caso, ma quello scherzo montato dai colleghi gli aveva aperto nell'animo una ferita che un'infinità di piccole cose da nulla, prima inavvertite, ora riaprivano di continuo. Non poteva più prendere un oggetto senza vedervi sopra la mano di Charles. Guardava e maneggiava solo cose che già erano servite a lui, comprate, amate e possedute da lui. E Georges cominciava ad irritarsi al pensiero dell'antico legame tra l'amico e sua moglie. Talvolta si stupiva di questa ribellione del suo cuore che non riusciva a capire e si domandava «Che diavolo mi succede? Non sono geloso degli amici di Madeleine, non mi preoccupo mai di quello che fa, va e viene quando le pare, eppure il ricordo di quel bestione di Charles mi manda su tutte le furie». Mentalmente continuava «In fondo era solo un cretino e forse è proprio questo a ferirmi, mi fa imbestialire che Madeleine abbia potuto sposare un simile imbecille». E continuava a ripetersi «Ma come ha potuto una donna come lei sorbirsi un animale del genere anche per un solo attimo?». E il suo rancore cresceva giorno dopo giorno, per mille dettagli insignificanti che lo pungevano come colpi di spillo, per il continuo riferirsi all'altro in una parola di Madeleine, del domestico o della cameriera. Una sera Dioua, che era goloso di dolciumi, domandò «Ma perché non c'è qualcosa di dolce, non ne fai mai servire?». La giovane donna rispose allegramente «È vero, non ci penso mai, il fatto è che Charles i dolci li detestava». La interruppe con uno scatto spazientito, che non seppe controllare. «Oh, insomma, questo Charles comincia proprio a seccarmi, sempre tra i piedi. Charles di qua, Charles di là. A Charles piaceva questo, a Charles piaceva quest'altro. Visto che Charles è crepato, lasciamolo in pace». Madeleine guardava il marito con stupore, non capendo la ragione di quell'improvviso attacco di collera. Poi, essendo intelligente, cominciò a intuire che cosa gli stava accadendo. Quel lento logorio di una gelosia postuma, che in ogni momento veniva esasperata da tutto ciò che gli ricordava l'altro. Giudicò la cosa puerile, forse, ma ne fu lusingata e non rispose. Lui, invece, non si perdonò quello scatto d'ira che non aveva saputo tenere nascosto. Quella stessa sera, dopo cena, mentre stavano scrivendo un articolo per il giorno dopo, restò impigliato nello scaldapiedi che si rovesciò. Non riuscendo a raddrizzarlo, lo spinse via con una pedata, domandò ridendo. «Ma Charles aveva sempre freddo alle zampe». «Oh», rispose lei ridendo a sua volta, «viveva nel terrore dei raffreddori, non era forte di polmoni». Duvoir replicò con ferocia «del resto ce ne ha dato una buona prova», e aggiunse galante «per mia fortuna», baciandole una mano. Ma infilandosi al letto, sempre ossessionato dalla sua fissazione, domandò ancora «Charles portava anche un berretto di cotone per riparare gli orecchi dalle correnti d'aria». Lei si prestò allo scherzo e rispose «No», si legava un madrat intorno alla fronte. «Georges alzò le spalle e disse con il disprezzo di un uomo superiore «Che babbeo!». Da quel momento Charles diventò per lui un soggetto inesauribile di conversazione. Ne parlava continuamente, ormai chiamandolo soltanto quel povero Charles, con infinita commiserazione. E quando tornava dal giornale, dove si era sentito chiamare Forestier due o tre volte, si vendicava perseguitando il morto fin dentro la tomba, con astiose facezie. Ne ricordava i difetti, gli aspetti ridicoli, le piccinerie, enumerandoli compiaciuto, sviluppandoli e ingigantendoli, come se avesse voluto combattere nel cuore di sua moglie l'influenza di un temuto rivale. Insisteva «Senti un po' mad, ti ricordi quando quello scemo di Forestier pretendeva di dimostrarci che gli uomini grassi sono più virili di quelli magri?». Poi volle sapere sul defunto un'infinità di particolari intimi e segreti che la giovane donna, imbarazzata, rifiutava di dire. Ma lui insisteva ostinato «Su, dai, raccontami!» Doveva essere proprio buffo in quei momenti. Lei mormorava a fior di labbra «Andiamo, lascialo in pace, insomma!». Lui ricominciava «No, dimmi, non è vero che a letto era un imbranato, quell'animale?». E finiva sempre con questa conclusione. Era proprio una bestia. Una sera, alla fine di giugno, mentre fumava una sigaretta alla finestra, il gran caldo gli fece venir voglia di una passeggiata. Domandò «Ti va di andare al Bois, mia piccola mad?». «Certamente, con piacere». Presero una carrozza scoperta, raggiunsero gli Champs-Élysées, poi l'Avenue du Bois de Boulogne. Era una notte senza vento, una di quelle notti bollenti, in cui l'aria surriscaldata di Parigi entra nel petto come il vapore di un forno. Un esercito di carrozze portava a spasso sotto gli alberi tutto un popolo di innamorati. Quelle carrozze procedevano l'una dietro l'altra, senza mai fermarsi. Georges e Madeleine si divertivano a guardare tutte quelle coppie abbracciate nelle carrozze, le donne in abito chiaro e gli uomini in abito scuro. Era un immenso fiume di amanti che scorreva verso il Bois sotto il cielo stellato e torrido. Non si udiva nessun rumore, tranne il sordo rotolare delle ruote sulla terra del viale. Passavano e passavano, i due esseri in ogni carrozza, distesi sui cuscini, muti, stretti l'uno all'altra, persi nell'allucinazione del desiderio, frementi nell'attesa del prossimo amplesso. La calda oscurità sembrava piena di baci. Una sensazione di tenerezza fluttuante, di diffuso amore bestiale, appesantiva l'aria, la rendeva ancora più soffocante. Tutta quella gente accoppiata, ubriacata dallo stesso pensiero, dallo stesso ardore, spargeva intorno la sua febbre. Tutte quelle carrozze cariche di amore, che sembravano avvolte da un turbinio di carezze, gettavano al loro passaggio una sorta di respiro sensuale, sottile e conturbante. Georges e Madeleine furono contagiati, anche loro, da tanta tenerezza. Si presero dolcemente per mano, senza dire una parola, piuttosto oppressi da quell'atmosfera pesante e dall'emozione che li stava soggiogando. Arrivati alla curva che segue le fortificazioni, si baciarono e lei balbettò un po' confusa, ci comportiamo da ragazzini come in viaggio per Rouen. Il fiume delle carrozze si era diviso all'ingresso dei boschi. Sulla strada dei laghi, imboccata dai due giovani, le carrozze si distanziavano un po', ma il buio fitto degli alberi, l'aria rinfrescata dal fogliame e dall'umidità dei piccoli ruscelli, che si udivano scorrere sotto le fronde, una frescura che sembrava scendere dalla vastità della notte ad orna di astri. Davano ai baci delle coppie erranti un fascino più penetrante e un'ombra più misteriosa. Georges mormorò, «Oh mia piccola mad», stringendola a sé. Lei gli disse, «Ricordi la foresta del tuo paese, com'era sinistra? Mi sembrava che fosse piena di bestie spaventose e che non dovesse finire mai. Qui invece è incantevole, si sentono carezze nel vento e so bene che dall'altro lato del bosco c'è Sèvra». Lui rispose, «Oh, nella foresta del mio paese c'erano solo cervi, volpi, caprioli e cinghiali, e qua e là la casa di una guardia forestale». Quella parola forestale, il nome del morto che gli era uscito di bocca, lo sorprese come se qualcuno glielo avesse gridato dal fondo di un burrone e si azzittì di colpo, ripreso dalla sua strana e insistente ossessione, dall'invincibile gelosia irritante e logorante che da qualche tempo gli guastava l'esistenza. Dopo un minuto domandava, «Sei già venuta qui di sera, come noi adesso, con Charles?» Lei rispose, «Ma sì, spesso». Allora gli venne subito voglia di tornare a casa, una smania nervosa che gli opprimeva il cuore, ma l'immagine di Forestier era di nuovo tornata, lo possedeva, lo soffocava, «Non riusciva più a pensare ad altro che a lui, a parlare che di lui». Domandò con cattiveria, «Dimmi, mad, che cosa, caro? L'hai mai fatto becco, quel povero Charles?» Lei mormorò sdegnosa, «Stai diventando sciocco con questa tua solfa?» Ma lui insisteva con la sua fissazione, «Su, mia piccola mad, sii sincera, confessalo, dimmi, l'hai fatto becco?» Confessa che l'hai fatto becco. Lei taceva, urtata come tutte le donne, da quella parola. Lui riprese, ostinato, «Cristo, se c'era qualcuno che aveva la faccia da cornuto, era proprio lui, oh sì, oh sì, mi piacerebbe proprio sapere che Forestier era cornuto con quel muso dall'occo!» Ebbe l'impressione che lei sorridesse, forse per qualche ricordo, e insistette, «Su, dimmelo, che male c'è? Anzi, sarebbe divertente che tu confessassi di averlo tradito e lo confessassi proprio a me!» In effetti, fremeva di speranza e di desiderio che Charles, l'odioso Charles, il morto detestato, il morto esecrato, avesse portato un paio di corna ridicole e infamanti. Eppure, eppure un altro sentimento più confuso rendeva più acuto il suo desiderio di sapere. Continuava a ripetere, «Mad, mia piccola Mad, ti prego, dimmelo. In fondo le corna se le sarebbe meritate, avresti fatto malissimo a non mettergliele. Su, Mad, confessa!» Adesso lei doveva trovare divertente quell'insistenza, perché si era messa a ridere con risatine brevi come sghignazzi. George aveva avvicinato le labbra all'orecchio della moglie. «Su, andiamo, confessalo!» Lei si scostò con un gesto brusco e rispose secca «Ma sei proprio stupido! Sono domande da fare!» Lo aveva detto con un tono talmente perentorio che il marito sentì un brivido di gelo corrergli nelle vene e rimase interdetto, sgomento, quasi senza fiato, come colpito da una violenta scossa morale. Adesso la carrozza costeggiava il lago dove sembrava che il cielo avesse sgranato tutte le sue stelle. Due cigni nuotavano lentissimi, come fantasmi appena visibili nell'oscurità. George gridò al vetturino «Torniamo indietro!» e la carrozza prese la via del ritorno, incrociando le altre che avanzavano al passo, con i grossi fanali che brillavano come tanti occhi nella notte del Bois. Con quale strano tono di voce Madeleine gli aveva intimato il silenzio. D'Ugoa si domandava che sia una confessione e la quasi certezza che avesse tradito il suo primo marito ora lo faceva impazzire di rabbia. Aveva voglia di picchiarla, di strangolarla, di strapparle i capelli. Oh, se gli avesse risposto «Ma caro, se avessi voluto tradirlo, lo avrei fatto con te, come l'avrebbe abbracciata, stretta, adorata!» Se ne stava immobile con le braccia conserte, gli occhi al cielo, ancora troppo agitato per riuscire a riflettere. Sentiva soltanto fermentare dentro e crescere quell'astio e quella collera che tutti i maschi covano di fronte ai capricci del desiderio femminile. Sentiva per la prima volta quell'angoscia confusa del marito che sospetta. Insomma, era geloso, geloso dalla parte del morto, geloso per conto di Forestier, di una gelosia strana e lancinante cui si univa improvvisamente l'odio nei confronti di Madeleine. dal momento che aveva tradito l'altro, quale fiducia poteva avere in lei? Poi, a poco a poco, la sua ansia sembrò calmarsi e reagendo alla sofferenza pensò «Le donne sono tutte puttane, bisogna servirsene senza dare niente di sé». L'amarezza del cuore gli saliva le labbra in parole di disprezzo e di disgusto. Non le lasciò uscire. Si ripeteva «Il mondo è dei forti, devo essere forte, devo stare al di sopra di tutto». La carrozza procedeva più veloce, ripassò davanti alle fortificazioni. Durois guardava davanti a sé un chiarore rossastro nel cielo, simile al bagliore di un'immensa fucina, e udiva un rimbombo confuso, enorme, continuo, fatto di rumori innumerevoli e diversi, un rumore sordo, vicino, lontano, un vago e smisurato palpito di vita, il respiro di Parigi, simile in quella notte d'estate al respiro di un colosso stremato dalla stanchezza. Georges pensava «Sarei un bello scemo a farmi cattivo sangue, ognuno per sé, la vittoria è degli audaci, tutto è solo egoismo, ma l'egoismo per l'ambizione e il successo vale certo di più dell'egoismo per le donne e l'amore». L'arco di trionfo dell'Etoile se ne stava piantato all'ingresso della città, su quelle sue due gambe mostruose, sorta di gigante informe che sembrava pronto a mettersi in cammino sul largo viale che gli si apriva davanti. Georges e Madeleine si ritrovarono nella fila di carrozze che li portavano a casa, al sospirato letto, l'eterna coppia dell'uomo e della donna, in silenzio e abbracciati. Sembrava che l'umanità intera sfilasse accanto a loro ebra di gioia, di piacere, di felicità. La giovane donna, che aveva intuito qualcosa di quanto stava accadendo nell'animo del marito, gli domandò con la sua voce dolce «A che pensi, caro? Da mezz'ora non dici una parola». Lui rispose ridacchiando «Penso a tutti questi imbecilli che si baciano, come se non ci fossero cose più importanti da fare nella vita». Lei mormorò «Sì, ma qualche volta è bello». «È bello, è bello quando non si ha niente di meglio da fare». Il pensiero di Georges, togliendo alla vita la sua veste poetica, stava prodando ad una sorta di rabbiosa cattiveria «Sarei un vero idiota a far mi degli scrupoli, a privarmi di qualcosa, a turbarmi, a tormentarmi, a rodermi il fegato, come sto facendo da un bel po». L'immagine di Forestier gli attraversò la mente senza provocargli la minima irritazione. Ebbe l'impressione che loro due si fossero riconciliati, che fossero tornati amici. Aveva voglia di gridargli «Ciao, vecchio mio!». Madeleine, a disagio per quel silenzio, domandò «E se andassimo a mangiare un gelato da Tortoni prima di tornare a casa?». La guardò con la coda dell'occhio. Il suo fine profilo biondo gli apparve nel bagliore improvviso di una ghirlanda di lumi a gas che annunciava un caffè concerto. Pensò «È bella, beh, tanto meglio. Se sei furba io lo sarò di più, cara mia. E se mi ritrovo a soffrire per te, vorrà dire che si è sciolto il polo nord». Poi rispose «Certo, tesoro». E perché lei non si accorgesse di nulla, la baciò. Alla giovane donna, le labbra del marito sembrarono di ghiaccio. Ma lui le sorrideva con il solito sorriso, quando le porse il braccio per aiutarla a scendere davanti ai gradini del caffè.